Walter, qui vediamo il Carrara che si espone all'intemperio e ha anche un problema di deterioro o di degradazione. A che causa vedece? Essendo in una località, eravamo alle cave, ma abbiamo il mare molto vicino, quindi in 15 chilometri passi da mille metri fino al mare, e l'area di mare, il sale del mare rovina il marmo. La sale è un gran fattore della degradazione del marmo di Carrara. Questa porosità la vediamo il salitre. Quasi... come si dice? Poroso, molto poroso. La sal. In questo monumento abbiamo un altro deterioro, questo che è? Ongo, lichen... Sì, questi sono muschi e licheni. Sono elementi organici, un deterioro organico, più che sal marina. Anche, diciamo, l'esposizione al sole, o c'è poco sole, comporta questo. Ovviamente la manutenzione andrebbe fatta annualmente, però in questo caso non è stata fatta. Questa è un caso che si poteva evitare, ovviamente, perché l'umidità, la pioggia e le intemperie hanno portato sì che il metallo, che non so che metallo sia, è trasudato, quindi è colato e si è impregnato all'interno del mare. E' un bronce di bassa qualità, l'oxidazione... Questo si chiama il cancer del bronce, quando la combinazione di stagio e cobre non è la adecuata... Esatto, non è stata fatta nella maniera giusta. Certo. Grazie. Grazie.